... Pressing efficace, attenzione, 3-4 avversaria. Ed è il primo gol della gara. Si immola e sventa la minaccia. Può riportarla in parità. Un gran peccato per loro poteva essere il gol del pari. Brutto errore questo. Potrebbe... Saccava direttamente in area. Ha provato a battere in portiere, ma il pallone è finito largamente sul fondo, su questa girata di testa. Sicuro, qui, il portiere. C'è il tiro. L'aveva piazzata bene, palla che ha sfilata di... ... ... ... ... ... Grazie.